Guarda questo video fino alla fine perché stai per scoprire una tecnica di persuasione importantissima. Ciao da Marcello Marchese e benvenuti in questo nuovo video. Oggi scopriamo una tecnica di copywriting chiamata la Reason Why. La tecnica della Reason Why dice che semplicemente aggiungendo una motivazione ad una chiamata all'azione, come ad esempio fai questo, ordina ora, clicca qui, i tuoi risultati aumenteranno di molto. La parola chiave che ruota attorno a questa tecnica è perché. L'Università di Harvard ha condotto uno studio scientifico a riguardo. In particolare una ricercatrice ha voluto testare tre domande da fare a degli studenti che erano in coda di una fotocopietrice per passare prima degli altri. La prima domanda è stata scusate dovrei fare cinque fotocopie, potrei usare la fotocopietrice senza dare alcuna motivazione. La seconda domanda invece che ha testato è stata scusate dovrei fare cinque fotocopie, potrei usare la fotocopietrice perché ho fretta. La terza domanda è stata scusate dovrei fare cinque fotocopie, potrei utilizzare la fotocopietrice perché devo fare delle copie. I risultati sono stati chiari. Con la prima domanda senza aggiungere una motivazione è riuscita ad ottenere solamente il 60% di persone che hanno accettato di farla passare. Comunque un buon risultato visto che semplicemente ha dovuto chiedere e le è stato dato. Con la seconda e con la terza domanda però i risultati sono schizzati alle stelle e un 40% in più di persone ha accettato di farla passare. Anche nel caso della terza domanda in cui la reason why non era per niente stimolante perché ha semplicemente ripetuto che doveva fare delle fotocopie, comunque le persone l'hanno fatta passare. Sembra quindi che per uno strano meccanismo evolutivo basta che ci sia una motivazione e questo ci mandi in autopilota per accettare una richiesta. La conclusione quindi di questa pillola è che quando aggiungi una chiamata all'azione come clicca qui, ordina ora nei tuoi siti web o in generale anche quando vendi, aggiungi sempre una motivazione per cui dovrebbero farlo. Banale o non banale che sia potrai vedere i tuoi risultati schizzare alle stelle. Grazie per aver guardato questo video. Se ritieni che sia stato utile condividilo con i tuoi collaboratori lasciami un mi piace, lasciami un commento e seguimi sul mio canale YouTube cliccando sul tasto iscriviti. In più clicca anche sulla campanellina che spunterà dopo così potrai essere notificato dei prossimi video che farò uscire. Per oggi è tutto, un saluto da Marcello Marchese e ricorda, le parole decidono tutto. Ciao!